la scritta sul muro che cosa succede qua che cosa succede certamente attratto dall'esclamazione di malfoi filch arrivò facendosi largo a spallate tra la folla poi vide mrs norris e cade all'indietro coprendosi il viso per l'orrore la mia gatta la mia gatta cosa è successo a mrs norris gridava i suoi occhi sbarrati si posarono su harry tu gridò tu sei stato tu a uccidere la mia gatta sei stato tu a ucciderla io ti ammazzo io argus silente era giunto sulla scena del delitto seguito da molti altri insegnanti superò velocemente harry ron e ermione e in un attimo staccò mrs norris dal braccio della torcia dove era appesa seguimi argus disse il custode e anche voi signor potter signor weasley e signorina granger lockhart si fece avanti baldanzoso il mio ufficio è il più vicino signor preside qui al piano di sopra la prego di fare come se fosse a casa sua grazie gilderoy disse silente la folla mutolita indietreggiò per lasciarli passare lockhart infervorato e dandosi aria di grande importanza si affrettò dietro a silente seguito dalla mcgonagall e da piton quando entrarono nel suo ufficio completamente buio si udì un grande fermento su tutte le pareti harry vide scomparire dalle cornici appese al muro molti lockhart con i bigodini in testa lockhart quello in carne e ossa accese le sulla scrivania e si fece da parte silente stese mrs norris sul piano lucido e cominciò a esaminarla harry ron e ermione si scambiarono un'occhiata nervosa poi andarono a sedersi in un angolo fuori dal cono di luce e rimasero a guardare la punta del lungo naso aquilino di silente si trovava poco più di un centimetro dal pelo di mrs norris la stava osservando da vicino attraverso i suoi occhiali a mezza luna e le sue dita tastavano e premevano con garbo anche la mcgonagall era china sulla bestiola quasi altrettanto vicina e i suoi occhi erano due fessure piton si teneva in disparte dietro di loro per metà in ombra e sul volto aveva l'espressione più strana che si potesse immaginare era come se stesse facendo di tutto per non sorridere quanto a lockhart gironzolava di qua e di là avanzando ipotesi è stata certamente una maledizione ucciderla probabilmente la tortura transilvanica l'ho vista fare molte volte peccato che non fossi presente conosco il contro incantesimo che l'avrebbe salvata i commenti di lockhart erano punteggiati dai singhiossi secchi e rumorosi di filch il custode si era lasciato cadere pesantemente su una sedia accanto alla scrivania con il viso tra le mani incapace di guardare mrs norris per quanto lo detestasse harry non poteva fare a meno di provare pena per lui ma non quanta ne provava per se stesso se silente avesse creduto alla versione di filch lui sarebbe stato certamente espulso intanto silente mormorava strane parole colpendo delicatamente mrs norris con la bacchetta ma non accadde nulla la gatta continuava ad avere l'aspetto di un animale appena impagliato ricordo che a wagadugu è accaduto qualcosa di molto simile diceva intanto lockhart una serie di aggressioni racconto tutto nella mia autobiografia allora riuscì a dare agli abitanti alcuni amuleti che risolsero la situazione una volta per tutte lockhart parlava e le sue foto appese alle pareti annuivano in segno di approvazione una di loro aveva dimenticato di togliersi la retina dai capelli finalmente silente si raddrizzò non è morta argus disse tranquillamente lockhart interruppe di colpo la litania di tutti gli omicidi che era riuscito a sventare non è morta ripete filch con voce soffocata guardando mrs norris da dietro le mani con cui si era coperto la faccia ma allora perché è così rigida e congelata è stata pietrificata disse silente proprio quel che pensavo esclamò lockhart ma non sono in grado di dire come lo chieda a lui strillo filch volgendo verso harry il viso congestionato irrigato di lacrime nessun allievo del secondo anno può aver fatto questo disse silente con fermezza è una cosa che richiede la più sofisticata magia oscura sì sì è stato lui continuava a gridare filch con la faccia gonfia e paonazza lei ha visto quel che ha scritto sul muro ha scoperto nel mio ufficio lui sa che io sono che io sono il viso gli si contorse in una morfia orribile lui sa che io sono un mago no concluse io non ho mai neanche sfiorato mrs norris disse harry a voce molto alta con la sgradevole certezza che tutti comprese le foto di lockhart appese alle pareti lo stessero guardando e non so neanche che cosa sia un mago no ciocchezze sbraitò filch ha visto la lettera che mi è arrivata la speedy magic preside mi permette una parola la voce di piton proveniva dall'angolo buio dove lui si trovava e i presentimenti di harry si fecero ancora più cupi era sicuro che qualsiasi cosa avesse detto piton non avrebbe certo giovato alla sua situazione può darsi semplicemente che potter e i suoi amici si siano trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato disse piton con un sorriso che gli incurvava le labbra in una smorfia come se dubitasse delle sue stesse parole di certo però abbiamo qui una serie di circostanze sospette perché si trovavano in quel corridoio e perché non erano alla festa di halloween harry ron e ermione si lanciarono in una spiegazione circostanziata della festa di comple morte c'erano centinaia di fantasmi loro potranno dirvi che eravamo là ma perché dopo non siete andati alla festa chiese piton con gli occhi neri che brillavano alla luce delle candele perché siete saliti fino a quel corridoio ron e ermione guardarono harry perché perché cominciò lui con il cuore che gli martellava in petto qualcosa gli diceva che se avesse raccontato di aver seguito una voce disincarnata che soltanto lui aveva udito sarebbe parsa una spiegazione molto stiracchiata perché eravamo stanchi e volevamo andare a letto disse senza cena chiese piton un sorriso trionfante gli guizzò sul volto ossuto non sapevo che alle loro feste i fantasmi offrissero cibo commestibile anche per i vivi non avevamo fame spiegò ron con lo stomaco che brontolava il sorriso malevolo sul volto di piton si fece ancora più ampio preside secondo me potter non sta dicendo tutta la verità disse bisognerebbe privarlo di certi privilegi fino a che non si decide a vuotare il sacco personalmente ritengo che fin tanto che non si sente disposto a essere sincero dovrebbe essere espulso dalla squadra di quiddici di grifondoro ma insomma severus disse la professoressa mcgonagall con voce tagliente non vedo il motivo di impedire al ragazzo di giocare a quiddici la gatta non è stata colpita alla testa da un manico di scopa non ci sono prove che potter abbia fatto qualcosa di male silente lanciò a harry un'occhiata inquisitoria sotto lo sguardo dei suoi scintillanti occhi azzurri il ragazzo si sentì come trapassato da parte a parte innocente fino a prova contraria sentenziò silente con fermezza piton pareva furibondo e anche filch la mia gatta è stata pietrificata strillava con gli occhi che mandavano saette qualcuno deve essere punito riusciremo a curarla argus disse silente con grande pazienza ultimamente la professoressa sprout è riuscita a procurarsi alcune mandragole non appena saranno cresciute farò una pozione che rianimerà mrs norris lasci fare a me si mise in mezzo lockhart devo averla fatta centinaia di volte so preparare a occhi chiusi una pozione ricostituente alla mandragola fino a prova contraria disse piton glaciale l'esperto di pozioni in questa scuola sono io seguì una pausa imbarazzata voi potete andare disse silente a harry ron e ermione i tre ragazzi uscirono più in fretta che poterono senza dare l'impressione di tagliare la corda quando ebbero messo un piano di distanza tra loro e l'ufficio di lockhart entrarono in una classe vuota e senza far rumore si richiusero la porta alle spalle harry scrutò i volti accigliati dei due amici pensate che avrei dovuto dirgli della voce no rispose ron senza esitazione udire voci che nessun altro sente non è un buon segno neanche tra i maghi qualcosa nel tono di ron spin seri a chiedere ma voi mi credete certo si affrettò a rispondere ron ma devi ammettere che è misterioso lo so che è misterioso disse eri tutta la storia è misteriosa che cos'era quella scritta sulla parete la camera dei segreti è stata aperta cosa diavolo vuol dire sai mi ricorda qualcosa disse lentamente ron forse qualcuno una volta mi ha raccontato la storia di una camera segreta a hogwarts può essere stato bill e cosa diavolo è un mago no lo interruppe harry con sua sorpresa ron soffocò una risata beh veramente non è tanto da ridere ma pensando a filch disse un mago no è uno nato in una famiglia di maghi ma privo di qualsiasi potere magico un po il contrario dei maghi nati babbani solo che i maghi no sono rari se filch sta cercando di imparare la magia con un corso speedy magic penso che sia perché un mago no questo spiegherebbe molte cose per esempio perché odia così tanto gli studenti ron sorrise soddisfatto è invidioso in lontananza si udirono i rintocchi di una pendola mezzanotte disse eri è meglio che andiamo a letto prima che arrivi piton e provi ad accusarci di qualcos'altro per alcuni giorni a scuola non si parlò d'altro che dell'attentato a mrs norris ci pensava filch a tenerne desto il ricordo pattugliando il corridoio dove era avvenuto il misfatto come se pensasse che il colpevole sarebbe tornato sulla scena del delitto eri lo aveva visto darsi da fare con il solvente magico di nonna acetonella per ogni tipo di sporcizia per cancellare il messaggio scritto sulla parete ma in vano le lettere continuavano a luccicare sulla pietra imperterrite quando filch non montava la guardia al luogo del misfatto si appiattava nei corridoi con gli occhi iniettati di sangue e poi saltava fuori all'improvviso davanti agli studenti ignari pretendendo di punirli accusandoli di respirare rumorosamente oppure di avere l'aria felice ginny weasley sembrava molto sconvolta per la sorte toccata a mrs norris a detta di ron amava molto i gatti ma in fondo tu mrs norris non l'hai neanche conosciuta le disse ron per rincuorarla te lo assicuro senza di lei stiamo tutti molto meglio a ginny tremarono le labbra cose di questo genere non capitano spesso a hogwarts la rassicurò il fratello vedrai che acciufferanno quel matto che l'ha aggredita e lo sbatteranno fuori in un batter d'occhio spero solo che prima di venire espulso ce la faccia a pietrificare filch sto scherzando si affrettò ad aggiungere perché ginny era sbiancata come un cencio l'attentato aveva avuto ripercussioni anche su ermione che aveva sempre letto moltissimi libri ma ora non faceva quasi più nient'altro ne erri ne ron riuscivano a farle spiccicare parola quando le chiedevano cosa avesse in mente questo fino al mercoledì successivo quando lo scoprirono erri era stato trattenuto alla lezione di pozioni dove piton lo aveva incaricato di ripulire le scrivanie dai vermi dopo un pranzo veloce erri si era avviato di sopra per incontrarsi con ron in biblioteca quando si vide venire incontro justin finch fletchley di tassofrasso di ritorno dalla lezione di erbologia erri aveva appena aperto bocca per salutarlo ma justin scorgendolo gli aveva voltato di improvviso le spalle ed era scappato nella direzione opposta erri trovò ron in fondo alla biblioteca alle prese con i compiti di storia della magia il professor beans aveva chiesto un tema lungo un metro su il consiglio dei maghi nell'europa medievale non ci posso credere mi mancano ancora 25 centimetri disse ron furibondo mollando la pergamena che tornò ad arrotolarsi e pensare che ermione ha fatto un tema di un metro e mezzo e per giunta a una calligrafia piccola dove ermione chiese erri prendendo il metro a nastro e srotolando il suo compito laggiù da qualche parte disse ron indicando gli scaffali in cerca dell'ennesimo libro credo che voglia leggere tutta la biblioteca prima di natale erri raccontò a ron di justin finch fletchley che era scappato per evitarlo non so perché te la prendi tanto pensavo che fosse un ragazzo un po stupido commentò ron continuando a scribacchiare e cercando di ingrandire più che poteva la sua calligrafia tutte quelle stupidaggini sul fatto che lockhart sia così in gamba ermione emerse da dietro gli scaffali pareva irritata e finalmente disposta a parlare con loro non c'è più una copia disponibile di storia di hogwarts disse andandosi a sedere vicino ai suoi amici e c'è una lista d'attesa di due settimane come vorrei non averlo lasciato a casa ma con tutti quei libri di lockhart non sono riuscita a farlo entrare nel baule perché ti serve chiese erri per lo stesso motivo per cui lo cercano tutti rispose ermione per leggere la storia della camera dei segreti e sarebbe chiese subito erri non lo so non mi ricordo disse ermione mordicchiandosi le labbra e non riesco a trovare la leggenda da nessun'altra parte ermione fammi leggere il tuo tema chiese ron disperato controllando l'ora non se ne parla neanche lo redargui lei irrigidendosi di un tratto hai avuto dieci giorni per finirlo ti prego mi mancano soltanto sei centimetri la campanella suonò batti beccando ron e ermione si avviarono alla lezione di storia della magia storia della magia era la materia più noiosa del programma la insegnava il professor beans l'unico docente fantasma e la cosa più eccitante mai accaduta durante le sue lezioni era il suo ingresso in aula attraverso la lavagna decrepito e avvizzito molti dicevano che non si era accorto di essere morto era accaduto semplicemente che un giorno alzatosi per andare a lezione aveva lasciato il proprio corpo su una poltrona davanti al camino nella stanza dei professori ma anche così le sue abitudini non erano minimamente cambiate quel giorno come al solito la lezione era noiosa beans aprì i suoi appunti e cominciò a leggere la sua voce era un ronzio monotono come un vecchio aspirapolvere tanto che tutta la classe cadde in un torpore profondo risvegliandosi di tanto in tanto per prendere nota di un nome o di una data e poi tornando a dormire beans parlava da circa mezz'ora quando accadde qualcosa di assolutamente inedito ermione aveva alzato la mano il professore sollevando lo sguardo nel bel mezzo di una lezione mortalmente noiosa sulla conferenza internazionale dei maghi del 1289 parve stupito signorina granger professore mi chiedevo se lei poteva dirci qualcosa sulla camera dei segreti chiese la ragazza con voce limpida dean thomas che fino a quel momento aveva guardato fuori dalla finestra uscì dalla trance con un sussulto lavanda brown rialzò la testa che aveva appoggiato sulle braccia e a neville scivolò il gomito giù dal banco il professor beans sbatté le palpebre la mia materia è storia della magia disse con la sua vocetta secca io mi occupo di fatti signorina granger non di miti e leggende si schiarì la gola con un piccolo schiocco come di un gessetto che si spezzasse e proseguì nel settembre di quello stesso anno un sottocomitato di stregoni sardi si interruppe un'altra volta la mano di ermione sventolava di nuovo in aria signorina grant granger professore mi scusi ma le leggende non si basano sempre su un fatto reale il professor beans la guardò talmente sbalordito che eri ebbe la certezza che mai studente né vivo né morto lo avesse interrotto prima di allora rispose lentamente sì suppongo che questa tesi sia sostenibile scrutò ermione come se fino a quel momento non avesse mai visto bene in faccia uno studente ma la leggenda di cui lei parla è un racconto talmente fantastico addirittura ridicolo ora però tutta la classe pendeva dalle sue labbra lui li fissò con il suo sguardo un po perso tutti gli occhi erano puntati su di lui harry avrebbe giurato che il professore era completamente sconvolto da quella insolita manifestazione di interesse oh molto bene disse lentamente vediamo un po la camera dei segreti naturalmente sapete tutti che hogwarts è stata fondata più di mille anni fa signora la data precisa dai due maghi e dalle due streghe più famosi dell'epoca le quattro case prendono nome da loro godric grifondoro tosca tassofrasso corinna corvo nero e salazar serpe verde insieme essi costruirono questo castello lontano dagli occhi curiosi dei babbani perché a quel tempo la magia era molto temuta dalla gente comune e maghi e streghe erano crudelmente perseguitati si interruppe volse intorno alla stanza uno sguardo opaco e proseguì per alcuni anni i quattro fondatori lavorarono insieme in grande armonia andando in cerca di giovani che mostrassero doti magiche e portandoli al castello per educarli ma un giorno tra loro nacquero dei dissapori fra serpe verde e gli altri cominciò a crearsi una spaccatura serpe verde voleva essere più severo nella scelta degli studenti da ammettere a hogwarts era convinto che il sapere magico dovesse essere custodito nelle famiglie di maghi non gli piaceva prendere studenti nati in famiglie di babbani li riteneva inaffidabili dopo qualche tempo tra grifondoro e serpe verde scoppiò una gravissima lite al riguardo e serpe verde lasciò la scuola il professor beans si interruppe di nuovo e increspò le labbra pareva proprio una vecchia tartaruga grinzosa tutto ciò proviene da fonti storiche sicure proseguì ma questi fatti chiari e inoppugnabili sono stati offuscati dalla fantasiosa leggenda della camera dei segreti si racconta che serpe verde costruì nel castello una stanza segreta di cui gli altri fondatori ignoravano l'esistenza stando alla leggenda serpe verde sigillò la camera dei segreti affinché nessuno potesse aprirla fin tanto che non fosse giunto il suo vero erede soltanto lui sarebbe stato in grado di spezzare il sigillo apposto sulla camera dei segreti sprigionare gli orrori che vi erano racchiusi e servirsene per epurare la scuola da tutti coloro che erano indegni di studiare la magia il professor beans concluse il racconto nel silenzio generale ma non era il solito silenzio sonnacchioso tipico delle sue lezioni gli alunni continuavano a fissarlo sperando che la storia avesse un seguito ma nell'aria si avvertiva un certo disagio il professore aveva un'aria lievemente annoiata senza dubbio si tratta di stupidaggini pelle buone disse naturalmente la scuola è stata perquisita molte volte in lungo e in largo dai maghi e dalle streghe più colti per trovare la prova dell'esistenza di un luogo simile ma quella stanza non esiste è una storia che si racconta per spaventare i creduloni ermione aveva alzato di nuovo la mano signore che cosa intende dire esattamente con orrori racchiusi nella camera si ritiene che si tratti di una specie di mostro da cui solo l'erede di serpe verde riesce a farsi obbedire rispose il professor beans con la sua solita voce esile asciutta i ragazzi si scambiarono occhiate nervose statemi bene a sentire questa cosa non esiste disse beans riordinando gli appunti non esiste nessuna camera dei segreti e non esiste nessun mostro ma signore disse simus finnegan se la camera può essere aperta soltanto dal vero erede di serpe verde nessun altro può trovarla non le pare stupidaggini ganni fin disse beans annoiato se tanti presidi di hogwarts non hanno trovato ma professore salto su parvati patil probabilmente per aprirla bisogna fare ricorso alla magia oscura il semplice fatto che un mago non ricorra alla magia oscura non vuol dire che non sappia usarla signorina parvil la rimbeccò il professor beans ripeto se figure della levatura di silente ma forse bisogna che ci sia un legame con serpe verde per questo silente non è riuscito cominciò a dire dean thomas ma beans ne aveva abbastanza basta così disse tagliando corto è un mito non esiste non c'è la minima prova che serpe verde abbia mai costruito neanche un armadio segreto per le scope mi rincresce di avervi raccontato una storia tanto insensata e ora se non vi dispiace torniamo alla storia ai fatti concreti credibili verifitabili nel giro di cinque minuti la classe era sprofondata di nuovo nel torpore di sempre l'ho sempre saputo che salazar serpe verde era un vecchio pazzo strampalato disse ronna erri e ermione mentre finita la lezione si facevano largo nell'affollato corridoio per andare a posare le cartelle prima di cena ma non sapevo che fosse stato lui a inventare questa storia dei puro sangue non vorrei essere nella sua casa per tutto l'oro del mondo sinceramente se il cappello parlante avesse cercato di mettermi a serpe verde avrei ripreso di filato il treno per tornarmene a casa ermione annuiva calorosamente ma erri taceva gli si era chiuso lo stomaco ed era una sensazione decisamente sgradevole erri non aveva mai raccontato a ron e a ermione che il cappello parlante aveva preso in seria considerazione la possibilità di mandare lui a serpe verde ricordava come fosse stato ieri quel che gli aveva detto all'orecchio la bucina un anno prima quando si era messo il cappello in testa potresti diventare grande sai qui nella tua testa c'è di tutto e serpe verde ti aiuterebbe sulla via della grandezza su questo non c'è dubbio ma erri che aveva già sentito dire che la casa di serpe verde aveva fama di aver formato molti maghi oscuri aveva pensato disperatamente non a serpe verde non a serpe verde allora il cappello aveva detto beh se sei proprio così sicuro meglio grifondoro mentre venivano spintonati tra la folla gli passò accanto colin crevey ciao erri e la colin gli rispose meccanicamente erri 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 un ragazzo in classe mia ha detto che tu sei ma colin era così piccolino che non riusciva a contrastare il flusso di persone che lo sospingevano verso la sala grande non avevano fatto in tempo a sentirlo strillare ci vediamo erri che era già scomparso cos'è che direbbe di te il suo compagno di classe chiese ermione che sono l'erede di serpe verde immagino rispose erri con lo stomaco che gli si era chiuso ancora di più al ricordo improvviso di come era scappato justin finch fletchley quando lo aveva incontrato la gente qui riesce a credere a qualsiasi cosa disse ron con aria disgustata la folla si diradò e i tre risalirono senza difficoltà la successiva rampa di scale pensi veramente che esista una camera dei segreti chiese ronna ermione non lo so rispose lei aggrottando la fronte silente non è riuscito a curare mrs norris e questo mi fa pensare che qualsiasi cosa abbia colpito la gatta non è umana chiacchierando i tre ragazzi girarono un angolo e si trovarono proprio all'estremità del corridoio dove era avvenuto il fattaccio si fermarono a guardare la scena era esattamente come l'avevano vista quella sera tranne che ora al braccio della torcia non c'era appeso nessun gatto rigido e stecchito come un baccalà mentre invece appoggiata contro la parete con la scritta la camera è stata aperta c'era una sedia è qui che filcio monta la guardia bofonchiò ron si scambiarono un'occhiata il corridoio era deserto non c'è niente di male a dare un'occhiatina in giro disse erli liberandosi della cartella e mettendosi a quattro zampe per cercare indizi segni di bruciature disse qui e qui viene a vedere esclamò ermione è strano erri si rialzò in piedi e si avvicinò alla finestra accanto al messaggio scritto sulla parete ermione indicava il pannello di vetro in alto dove una ventina di ragni si davano alla fuga azzuffandosi per passare attraverso una piccola fenditura un lungo filo argenteo pendeva a mo di fune come se tutti nella fretta di andarsene se ne fossero serviti per arrampicarsi hai mai visto dei ragni comportarsi in questo modo chiese ermione pensierosa no disse erri e tu ron ron si voltò a guardare ron si teneva scrupolosamente in disparte e sembrava si trattenesse astento dal correre via cosa c'è gli chiese erri non mi piacciono i ragni rispose nervoso non lo sapevo disse ermione guardandolo sorpresa hai maneggiato ragni migliaia di volte nelle pozioni se sono morti è un altro conto rispose ron guardando ovunque tranne che verso la finestra non mi piace come si muovono ermione rise non c'è niente da ridere disse ron arrabbiato se proprio volete saperlo quando avevo tre anni fred ha trasformato il mio il mio orsacchiotto in un orrendo ragno grossissimo perché io gli avevo rotto la sua scopa giocattolo neanche a voi piacerebbero se quando tenevate in braccio il vostro orsacchiotto tutto a un tratto gli fossero spuntate zampe da tutte le parti e si interruppe e rabbrividì naturalmente ermione stava ancora facendo di tutto per non ridere erri si rese conto che era meglio cambiare argomento e disse vi ricordate tutta quell'acqua per terra da dove sarà avvenuta qualcuno l'ha asciugata era presa poco qui disse ron che si era ripreso ed era riuscito a fare qualche passo oltre la sedia di filch indicando un punto all'altezza di questa porta allungò la mano sulla maniglia d'ottone ma la ritrasse di colpo come se si fosse ustionato cosa c'è chiese erri non si può entrare disse ron abbassando la voce e il bagno delle ragazze o ron di sicuro non c'è nessuno disse ermione avvicinandosi questo è il regno di mirtilla malcontenta vieni su andiamo a dare un'occhiata e ignorando il grosso cartello guasto aprì la porta era il bagno più squallido e deprimente dove erri avesse mai messo piede sotto un grosso specchio rotto e macchiato c'era una fila di lavandini in pietra sbreccati il pavimento era bagnaticcio e rifletteva la luce fioca di alcuni mozziconi di candela le porte di legno dei gabinetti erano graffiate e scorticate e una ciondolava fuori dai cardini ermione si mise un dito sulla bocca e si avviò verso il gabinetto in fondo lì disse salve mirtilla come stai erri e ron si avvicinarono per guardare mirtilla malcontenta era sospesa a mezz'aria sopra la cassetta dello scarico e si stava strizzando un brufolo sul mento questo è un bagno per ragazze disse lanciando un'occhiata sospettosa a ron e erri loro non sono ragazze è vero convenne ermione volevo soltanto fargli vedere come come carino qui e con un gesto vago indicò il vecchio specchio tutto sporco e il pavimento bagnato chiedile se ha visto niente le sussurrò erri che cosa vi state bisbigliando disse mirtilla guardandolo fisso niente si affrettò a dire erri volevamo chiederti vorrei che la gente la smettesse di parlarmi alle spalle disse mirtilla con la voce rotta dal pianto ho anch'io dei sentimenti sapete anche se sono morta mirtilla nessuno vuole offenderti disse ermione erri voleva solo nessuno vuole offendermi eh questa sì che è buona gemette cupa mirtilla in questo posto la vita non mi ha dato che infelicità e ora mi vogliono rovinare anche la morte volevamo chiederti se ultimamente avevi visto per caso qualcosa di strano si affrettò a spiegare ermione perché proprio di fronte alla tua porta la notte di halloween qualcuno ha aggredito un gatto hai visto nessuno a girarsi qui intorno quella notte chiese erri non ci ho fatto caso rispose mirtilla con aria melodrammatica pivs mi ha fatto talmente arrabbiare quella sera che me ne sono venuta qui e ho cercato di ammazzarmi poi naturalmente mi sono ricordata che sono che sono che sei già morta concluse ron venendole in aiuto mirtilla fece un sospiro tragico si sollevò in aria si voltò e si tuffò a capofitto nella tazza spruzzando acqua tutto intorno e scomparendo dalla direzione da cui provenivano i suoi singhiozzi smorzati si sarebbe detto che si fosse fermata da qualche parte nel sifone harry e ron rimasero a bocca aperta ma ermione scrollò stancamente le spalle e disse a dire il vero questa sera mirtilla era proprio di buon umore andiamo via su harry aveva appena richiuso la porta sui singhiozzi gorgoglianti di mirtilla quando uno scoppio di voce li fece saltare tutti e tre ron per si weasley si era fermato di botto in cima alle scale con il distintivo da prefetto che gli luccicava sul petto e sul volto un'espressione completamente sconvolta ma quello il bagno delle ragazze era senza fiato che cosa stavate stavamo semplicemente dando un'occhiata in giro disse ron facendo spallucce cerchiamo indizi sai persi si gonfiò in un modo che a harry non poté non ricordare la signora weasley fuori di qui disse avvicinandosi a grandi passi e spingendoli via agitando le braccia non vi importa proprio niente di quel che si potrebbe pensare di voi tornare qui mentre tutti sono a cena e perché mai non dovremmo essere qui disse ron risentito fermandosi e dando un'occhiataccia al fratello senti un po guarda che la gatta noi non l'abbiamo sfiorata neanche con un dito è quel che ho detto a ginni disse persi con fuga ma quanto sembra lei continua a pensare che sarete espulsi non l'ho mai vista così sconvolta piange come una fontana potreste anche pensare a lei tutti quelli del primo anno sono assolutamente sovreccitati per questa faccenda e a te che non importa niente di ginni disse ron con le orecchie rosse dalla rabbia l'unica cosa che ti preoccupa è che io possa rovinarti la promozione a caposcuola cinque punti in meno a grifondoro tagliò porto persi indicando il suo distintivo e spero che questo ti serva da lezione niente più giocare al detective o scrivo a mamma e si allontanò a gran passi con la collottola rossa quanto le orecchie di ron quella sera quando si riunirono nella sala comune harry ron e ermione andarono a sedersi più lontano possibile da persi ron ancora di pessimo umore continuava a imbrattare d'inchiostro il suo compito di incantesimi quando poi distrattamente prese la bacchetta per eliminare le macchie diede fuoco alla pergamena fumando quasi quanto il suo compito chiuse in malo modo il secondo volume del manuale degli incantesimi con grande sorpresa di erli ermione fece altrettanto ma allora chi può essere disse a bassa voce come riprendendo una conversazione interrotta poco prima chi può volere che tutti i maginò e nati babbani abbandonino hogwarts aspetta fammi pensare disse ron con finta perplessità chi conosciamo che pensa che i nati babbani siano il rifiuto della società fissò ermione che gli ricambiò l'occhiata poco convinta stai parlando di malfoi e di chi altro disse ron l'hai sentito la prossima volta tocca a voi sangue marcio dai basta che gli guardi quella stupida faccia da topo per capire che è lui malfoi sarebbe l'erede di serpe verde commentò ermione scettica guarda la sua famiglia disse erli chiudendo anche lui il libro sono stati sempre tutti serpe verde lui non fa che vantarsene non è impossibile che discendano da serpe verde in persona il padre di malfoi è decisamente abbastanza cattivo per esserlo forse possiedono la chiave della camera dei segreti da secoli disse ron e se la tramandano di padre in figlio beh disse caute ermione è possibile ma come possiamo dimostrarlo chiese erli cupo un modo ci sarebbe disse lentamente ermione abbassando ancora di più la voce e lanciando una rapida occhiata persi all'altro capo della stanza naturalmente è difficile e pericoloso molto pericoloso se lo facessimo immagino che infrangeremmo almeno cinquanta regole della scuola se fra un paio di mesi vorrai degnarti di spiegarcelo faccelo sapere disse ron irritato va bene rispose ermione in tono gelido dovremmo introdurci nella sala comune dei serpe verde e fare a malfoi qualche domanda senza che lui sappia che siamo noi ma è impossibile esclamò erli e ron scoppiò a ridere no che non lo è replicò ermione basterebbe un po di pozione polisucco e che cos'è chiesero all'unisono ron e erli l'ha nominata piton in classe alcune settimane fa pensi proprio che durante le lezioni di pozioni non abbiamo niente di meglio da fare che ascoltare piton corbottò ron è una pozione che ti trasforma in un'altra persona pensateci potremmo trasformarci in tre studenti di serpe verde nessuno saprebbe che siamo noi è assai probabile che malfoi vuoterebbe il sacco forse se ne sta vantando nella loro sala comune in questo preciso momento se solo potessimo ascoltarlo questa roba polisucco mi sembra un po pericolosa disse ron aggrottando la fronte e se ci rimane addosso per sempre la faccia dei tre serpe verde dopo un po svanisce da sola disse ermione con un gesto di impazienza resta il fatto che impadronirsi della ricetta sarà molto difficile piton ha detto che si trova in un libro intitolato de potentissimi spozionibus che viene custodito nel reparto proibito della biblioteca c'era un solo modo per poter prendere un libro dal reparto proibito avere un permesso firmato da un professore il difficile è spiegare perché lo vogliamo disse ron se non per cercare di eseguire una delle ricette io penso di sermione che se lo facessimo passare per il desiderio di approfondire lo studio teorico avremmo una possibilità ma che dici nessun insegnante ci cascherà la rimbe corron dovrebbero essere veramente ottusi grazie a tutti